allora ragazzi un messaggio importante che il bere sia sempre un piacere e non diventi una re non si trasformi in una tragedia quindi bevete con la testa non fate le teste di alcol per favore e quando bevete non guidate fatevi accompagnare chi non ha bevuto prendete un taxi prendete i mezzi ma non prendete la macchina non mettetevi al volante ciao